Il sordo muto di cui parla il Vangelo non è un fatto solo fisico, perché si può essere sordo muti fisicamente, ma saper ascoltare, interpretare, vivere la propria vita e dare testimonianza di parola straordinaria. In realtà l'essere sordo e l'essere muti riguarda una dimensione profonda dell'uomo che tocca a tutti. Quante volte una voce interiore ci porta a ribellarci dinanzi alla vita che stiamo vivendo e ci porta a pensare ma perché la vita mi va contro? Ma perché Dio non fa nulla? Perché Dio se ne sta lontano? E allora l'idea che Dio non ci vuole bene, che Dio si è scordato di noi e dinanzi a questo è allora il desiderio isticato dal peccato a voler essere come lui, ad essere onnipotente, ad affermare il proprio io. Cosa ci libera dalla menzogna che ci fa realmente sordo muti? E fatà, apriti alla verità, apriti a Dio, apriti a quest'amore di un Dio che per te si è fatto crucifisso, che per te si è donato tutto. Che il Signore ci doni di sfuggire la sortità e la mutezza e di aprirci alla parola di amore che solo Gesù Cristo ci sa dare. Buon amissio.